buongiorno da valentina di radio fisco e benvenuti al consueto lorem ipsum il podcast dedicato solo a chi legge i titoli green pass sul telefono o dal medico il documento per i vaccinati valido 15 giorni dopo la prima iniezione ma gli altri paesi potrebbero chiedere la doppia dose si potrà scaricare da web fascicolo sanitario o dalle app immuni e io potrà essere ottenuto anche in farmacia o negli studi medici niente versamenti delle cartelle ad agosto accordo fatto o quasi tra governo e parlamento sulla proroga della sospensione della notifica delle nuove cartelle attualmente in scadenza il 30 giugno che porta con sé anche lo slittamento in avanti anche della scadenza per saldare il conto dei versamenti sospesi dall'inizio del lockdown a marzo 2020 trust con la tassazione all'uscita per l'imposta versata c'è il rimborso l'agenzia si allinea alla cassazione e abbandona la tassazione all'entrata truffa la società non paga se i proventi vanno i soci non scattano le sanzioni da decreto 231 in assenza di interesse o vantaggio da radiofisco è tutto a risentirci alle prossime notizie